Forse lo sappiamo meglio di quelle che avevano oggi il palazzo del governo. Lo sappiamo bene perché la crisi è fatta con la proteggere i forti e i frutti, perché invece noi vogliamo un paese che fortunisca se stesso. Ma quando c'è la tua compassione o la rigidità e il mondo di lavoro... In questo paese è un'attraversata che è cominciata con la crisi. E' cominciata un'altra idea della crescita. E se il governo avesse fatto ciò che bisognava fare, forse oggi non saremmo quelli che devono chiedere alla Germania e alla Francia e ai senzioni, ma potremmo essere, sia dalla Germania e alla Francia, a decidere di quale ruota e di quale prospettiva. Siamo d'accordo adesso, ma potremmo anche dirgli... portare ancora in giro il popolo italiano, toltanto quello. Cerca di guadagnare tempo. Perché purtroppo noi non abbiamo accettato questa logica per cui... Non ho sperato nulla. O questi ormai sono troppo... Sto scuttando. Qualche tempo fa il governo ha detto... Non riesce a provare. Ma abbiamo fatto una lunga traversata del deserto, dicendo sempre... Il dibattito politico sono diventate le parole di tutti. Non ce l'ha fatto. Non ci vuole un'opera dell'economia per sapere. E cioè di sapere che ci lasciavano un avvenire lì. Forse lo sappiamo meglio di quello che ha avuto oggi il palazzo del governo. Lo sappiamo bene perché la crisi è fatta...